Si riunisce il giovedì prossimo per la terza volta il Comitato Cittadino Spontaneo SR71 più sicura, associazione nata da poco più di un mese con l'intento di mettere in evidenza e risolvere lo stato di scarsa sicurezza della lunga arteria viaria che unisce Monte Fiascone a Ravenna e in particolar modo del tratto che attraversa la Valdichiana Retina, almeno per adesso. Il presidente Giancarlo Faralli lancia l'invito alla popolazione a partecipare all'incontro del Comitato Spontaneo sperando in un buon coinvolgimento dei cittadini della zona. I problemi sono molteplici ma come sottolinea anche il sindaco di Castiglion Fiorentino la possibile realizzazione di una variante che unisca il capoluogo a retino con Camucia evitando i centri abitati non è mai stata presa seriamente in considerazione negli anni passati dalle istituzioni preposte soprattutto a causa degli altissimi costi per poterla realizzare. Così SR71 più sicura proporrà soluzioni per la messa in sicurezza della vecchia strada che purtroppo per anni ha mituto tante vittime in troppi incidenti stradali. Tra gli obiettivi del Comitato c'è anche quello di collaborare in futuro con l'Associazione Nazionale Vittime della Strada che non ha seda locale ad Arezzo per il momento. Con questa realtà Faralli ha già cominciato ad allacciare i primi rapporti. I principali argomenti degli incontri vertono sulla mancanza di aree di sosta per i mezzi pubblici preposti alla raccolta di difiuti e quelle del trasporto di persone e le fermate degli autobus. Altro tema sensibile è quello dei marciapiedi e dell'illuminazione pubblica nei tratti urbani attraversati ed in prossimità di uffici e supermercati. Secondo la Regione si tratterebbe di un impegno economico facilmente sostenibile, sottolinea Faralli, trattandosi di impegni poco onerosi. L'appuntamento è fissato per giovedì 18 novembre a Policiano presso la Polisportiva e si replicherà ancora nella frazione di Olmo al circolo MCL il 2 dicembre prossimo.